Eccolo, stamattina non ci siamo riusciti a tirargli, l'ha trovata una e l'ha ribattuta tre volte, poi un'altra bella fermata, uguale non gli si è potuto tirare, poi oggi due padelle tue, e poi queste sono le ultime due. Questa è Gil Radentis, bravo, giovane, ha due anni e mezzo.